C'è un po' incomprensibile, questa gioia, probabilmente i più forti, sono sempre un po' più antipatici forse, sarà quello, sono i campioni d'Europa, comunque. Io sono in apnea e lo sarò per i prossimi due minuti. E allora, due al termine, Pozzecco si fa stoppare il pallone ma lo recupera il capitano, Pozzecco, attenzione, Basile da tre, c'è, c'è la tripla, c'è la tripla, 89 a 79, c'è, Basile, c'è, cuore in gola, canestro di Basile, che vale una carriera Franco. E' tornato anche il colonnello Gomerchi, ora generale, era colonnello 24 anni fa, Mosca 80, un signore della palla canestro. E poi racconteremo anche qualche altra cosa, 1'47, la regia.